Credo che un gesto del genere, l'affrontare una riforma seria come quella che stavamo approvando, puoi essere più o meno d'accordo, faccia recuperare quella dignità che è stata tolta a questo ramo del Parlamento proprio da un collega ex Presidente della Repubblica che ha definito indegno il Parlamento e quindi anche questo Senato. Indegni sarà sua sorella, suo fratello e non certo il Senato. Grazie.